Viva e palpitante Cerchio K attraverso Marco a cura di V.B. Frate Bernardo Che cos'è l'uomo? Per quanto io possa spingermi in alto, oltre a ciò che sono, tuo Signore, sei ancora oltre. Io non posso che essere un piccolo contenitore in cui tu ti lasci limitare. Da cui ti lasci possedere, ma sei tu in realtà a possedermi e a contenermi. Fa, o Signore, che io possa sentire giorno dopo giorno, viva e palpitante, questa definitiva realtà.